Siamo chiamati ad un impegno comune, c'è qualcosa che viene prima della politica e che segna il suo limite, il sentirsi responsabili l'uno dell'altro. E' così che il sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro, facendo proprie le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio in occasione del 2 giugno, festa della Repubblica, quest'anno, nel segno del rilancio e della rinascita. Il 2 giugno del 1946 l'Italia ha scelto, ha vissuto un momento di importante cambiamento, passando dalla monarchia alla Repubblica. Un referendum che portò ad un grande rinnovamento, a partire dalla possibilità data alle cittadine italiane, ammesse per la prima volta al voto. Il 2 giugno di 75 anni fa gli italiani scelsero la Repubblica e poi la Costituzione, risultato di un prestigioso lavoro, fondato sulla sincera collaborazione e conciliazione di tutte le forze politiche, si produsse così un lavoro redatto su basi solide, ovvero i valori comuni di pace e libertà, sconfiggendo così totalmente il nazifascismo con la fine della Seconda Guerra Mondiale. Per festeggiare i 75 anni della Repubblica, questa mattina a Manduria è stata deposta una corona di alloro, dinnanzi al monumento ai caduti in villa, alla presenza di varie autorità cittadine, forse dell'ordine, componenti dell'amministrazione comunale, nonché rappresentanti dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, Associazione Nazionale Ampi Partigiani d'Italia, Associazione Nazionale Carabinieri e Associazione Nazionale Bersaglieri, a cui il sindaco ha rivolto un sentito ringraziamento per l'impegno a portare avanti i valori della Costituzione e della democrazia in questo nuovo inizio dopo la pandemia, anche per Manduria.